Allora, ieri un'assemblea che si è conclusa nel migliore dei modi. Sì, sì, un'atmosfera molto serena e rilassata visto che abbiamo chiuso questo bilancio a pareggio e quindi ovviamente con i soldi che sono arrivati dalla regione abbiamo potuto appunto chiudere a pareggio. Quindi siamo molto sereni, stiamo rimettendo in pari l'ente carnevalesca e quindi ovviamente tutto sarà più tranquillo e le spese le faremo con più leggerezza. L'assemblea dei soci, sono venuti fuori qualche commento, qualche osservazione? È un momento particolare quello dell'assemblea dei soci? Ma dunque c'è stata una domanda sulla questione del pagamento perché si è fatto un passo indietro. Io ho spiegato che è stato fatto perché essendo arrivati poi questi soldi dalla regione insomma il bilancio era tranquillo e visto che non abbiamo uno storico sulla questione pagamento non volevo mettere a rischio la carnevalesca. Prima si era deciso di mettere a pagamento perché comunque non essendoci fondi abbiamo detto rischiamo. Essendo arrivati questi fondi abbiamo detto, ci siamo fatti una riflessione, abbiamo detto va bene quest'anno mettiamo in sicurezza la carnevalesca così che l'anno prossimo quando ci saranno le chiusure anche se non va come deve andare appunto non avendo uno storico abbiamo la forza di sostenere anche delle mancanze che magari non possiamo calcolare. Come ho detto io sapevo benissimo che sarebbero nati delle polemiche ma io non devo salvare la mia faccia, devo salvare il carnevale quindi è andato bene così comunque. Tesseramento come sta procedendo? Sono le prime settimane? Beh ovviamente le prime settimane sono quelle più semplici, siamo a poco meno di 200 tessere escluse quelle che abbiamo fatte ieri, credo ne siano state fatte una trentina, adesso non so bene il numero comunque mi pare che per il momento siamo partiti bene, ovviamente dovremo fare durante l'anno degli eventi per aiutare il tesseramento ma sono sicura che i fanesi stanno cominciando a capire che è importante tesserarsi all'ente carnevalesca.